Un'altra proprietà appariscente da Berry Plant è arrivata una grande opportunità per coloro che cercano una grande casa con tanto spazio per la famiglia in crescita. Contiene una cucina ben arredata con tutto ciò che il cuoco desidera. Gradevole camere da letto che offrono abbondante spazio a tutti. Fate un passo fuori alla zona dell'intrattenimento, perfetto per un barbecue estivo. Non aspettate! Chiamate la gente oggi! Grazie!